Se Fortu the Gamer non parla in terza persona il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore Fortu così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Fortu the Gamer e Amgrin si stanno dirigendo verso... Sono verso The Agency perché Fortu deve fare la spida se non parla in terza persona Nel video finisce Fortu the Gamer sta registrando da 7 ore e il suo cervello si è completamente fuso 7 ore a parlare in terza persona e a giocare a Fortnite Il suo cervello è completamente fuso Comprendetelo, comprendetelo Quindi se Fortu the Gamer sbaglia qualche parolina Dategliela per buona, grazie Fortu the Gamer arriva, stia attento Midas in zona da lei Scenda giù, scenda giù Così... Ok, Fortu the Gamer si fa la cozza grande Teoricamente ci stanno nemici Fortu the Gamer prova ad uscire, fightare Zona bunker, zona bunker, zona bunker Gente zona bunker, tanta gente zona bunker Uhuhuhuhuhu Si attento, chiuda, 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 chiuda Siamo in... Fortu the Gamer e Rembrandt sono in due Nemico uno, nemico uno One shot, ok Tra l'altro Fortu the Gamer vi ricorda che ogni sera alle 21 è in live sul sito viola per giocare a Fortnite, a code e a tanti altri giochi insieme a voi Quindi se anche voi volete giocare vi ricorda di andare in descrizione nella sezione live streaming e di inserire, di andare sul link in modo da iniziare a seguirlo per non perdervi la live che arriverà stasera Fortu the Gamer sta per prendere l'elicottero Emo che in appena poi mi raggiunga Fortu the Gamer si trige verso quella zona, forse troveranno oggetti utili No, la zona è stata già allulata, bello, ok Sotto, probabilmente sotto Fortu the Gamer arriva, Fortu the Gamer arriva Noioso, 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 eliminato Ok Attack blue, Fortu the Gamer già ce l'ha, easy Ok Mi raggiunga Fortu the Gamer M15 si tricono verso Swede Sparo, non so, arrivato Ok, 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 ok Spari, capiti, spari, capiti Fortu the Gamer si lancia Ok, ok, ok 50, 50 white, 50 white 50 white Mamma mia Scenda, 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 non si preoccupi, scenda Terra, terra, terra Altri due, altri due, altri due Gente qui Non mi riesci scomparsi, cosa? Ok, 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 ok Fortu2Gamer prova a fare una cosa Fortu2Gamer prova a fare una cosa Ha ragione mi dia un secondo Fortu2Gamer non si arrenderà Ok Fortu2Gamer è stato rianimato da EmGreen Fortu2Gamer ora prova a dare il suo meglio Per riprendersi un attimo Anche se ha fatto un bel casino Fortu2Gamer ringrazia per tutti i materiali e tutte le cose Fortu2Gamer cerca nella cesta Non si preoccupi Fortu2Gamer si sta facendo un po' di materiali Ok ok Fortu2Gamer arriva Fortu2Gamer arriva Fortu2Gamer ha un assalto a un fucile da pompa Almeno È il minimo indispensabile Per provare a fare qualcosa Ok ok Esatto esatto The rig dentro la safe Quindi volendo Non si preoccupi Volendo A the rig si può restare Materiali Ok No materiali cosa Boss 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 Ok Fortu2Gamer appena ha preso l'arco Ok Rig Keycard Vada Vada al bunker Vada al bunker Ok 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 Stia attento al nemico Stia attento al nemico Shieldone trovato Shieldone trovato Non si preoccupi M green M green lei non muoia mi serve Fortu2Gamer Sparabende Trovate lo sparabende Stia attento Prenda questa cosa qui Situazione molto particolare Ragazzi ma Fortu2Gamer e M green Possono ancora gestirsela assieme Ce la faranno Non ce la faranno Sì sì Non si preoccupi Ok ok Rig è in safe La partita può essere ancora vinta Semplicemente Fortu2Gamer e M green Devono stare moolto attenti Dato che non è vinta Gamer e M green Hanno capito che la situazione È veramente Un casino Siete Seri Cecchino Sì Pushano 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 Stia attento Stia attento in testa Stia attento in testa Sul lato sinistro Megatorre Megatorre C'è una megatorre In mattone Sud Sud Ferro 75 Eh 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 Fortu2Gamer Forse pensa che pushano loro Forse Eh Sbagliata Sbagliata Fortu2Gamer sta risalendo Sì sì Vicini 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 Fortu2Gamer Cerca di raggiungerla Ok Sopra M green C'è un buco Non si preoccupi Non si preoccupi Non si preoccupi Chiuso No Lasci stare Lasci stare Sì 23 Faita Faita su di me Faita su di me Faita su di me Faita proprio Piano mio Piano mio Sceso Sceso Provano a far cadere Provano Provano a far cadere Scenda 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 Per il suo bene Cento Con arco Sì sì Non si preoccupi Portu2Gamer M green Stanno in safe Gente sotto qui 75 Che noia Si è spostato Si è spostato Sicuro Gente push Gente push Stia attento 37 37 White Distrutto 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 Incredibile Veramente Incredibile Materiali finiti Materiali finiti Ok 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 Ha ragione Ha ragione Portu2Gamer Prova a far cadere Le drop Ok ok Altro Sparabendi Altro Sparabendi Altro Sparabendi Oh 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 Simpatici Certo 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 Pushano 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 Stia attento Stia attento Certo 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 Non si preoccupi Non si preoccupi Situazione un po' particolare Chiusi Chiusi Come poche cose Chiusi Come poche cose Non si fanno Entrare nulla Che noia Si 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 Carico Carico 250 Non si preoccupi A breve conviene fare Skybase E anche loro Anche loro Hanno lo spara bene Ok 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 Continui Spammi 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 Nulla Spostati Spostati Razzi Sei Si 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 Chiuda 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 Skybase 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 Con sparabende E' andata E' andata Skybase Con sparabende E' andata 75 White 75 Scudo Finito Finito arco Finito arco Si alzi Si alzi Si alzi Vada sopra Vada sopra Sparabende Sparabende Cavolo Finito materiali Finito materiali Costruisca lei Costruisca lei Scala Scala Vada 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 Ok 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 Mgreen Si sposti Si sposti Si sposti Mgreen Ok 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 Vada 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 Non si preoccupi Vada Che partita Fortune Gamer Mgreen Con il mal di testa Inquietante Posso dirlo Ce l'abbiamo fatta GG Mgreen 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 Mgreen